Benvenuti su Metronapoli Web TV. Oggi abbiamo l'onore di avere in studio Shen Dong, che è il vicepresidente della Repubblica del Fujian, che è venuta in visita ufficiale alla provincia di Napoli. Al vice governatore chiediamo subito, grazie a Rossella Di Cono che è l'accompagnatrice ufficiale e organizzatrice dell'evento, i motivi di questa visita e della tradizione che unisce la provincia di Napoli del Fujian. La provincia di Napoli è stata un'imilato e molto molto simpatico di spazio, molto è un po' di una situazione lunga, molto spazio, giusti a loro e ai guaglianze di questi ambiti, sia di uguaglianza che di differenza, si può sicuramente cavare qualcosa di buono. Quindi nello scambio reciproco, il trasferimento reciproco di conoscenze e soprattutto in alcuni campi, lui intravede una cooperazione che sono il campo legato all'economia del mare, quindi tutto il campo della nautica, il turismo e anche l'abbigliamento, l'agroalimentare, insomma ci sono moltissimi aspetti. Un'ultima domanda e poi salutiamo il governatore. Crede che le nuove tecnologie, l'utilizzo di internet e la possibilità di scambi che possono avvenire anche attraverso la rete internet, possa essere un'occasione di incontro tra la provincia di Napoli e la Repubblica di Tujian? La prima domanda e l'agroalimentare, nei ragazzi della regione di Nouvelle. quindi nel governo, vi tiene che ci siano ampi spazi di cooperazione sulla tecnologia legata all'informatica, ma su moltissime anche industrie che lui ha visto girando Napoli in particolare l'industria della nautica tutto quello che è appunto legato all'economia del mare anche la cultura e il trattamento dei rifiuti l'agroalimentare, tantissimi ambiti di cooperazione nei quali si può imparare l'uno dagli altri a seconda delle proprie capacità grazie la cooperazione industriale da un punto di vista tecnologico iniziando appunto dall'ambito dell'informazione ma puntando anche moltissimo all'ambito della protezione ambientale molte industrie nei quali anche per esempio l'acciaio lui ha visto che abbiamo molte lavorazioni qui nei quali all'umino siamo molto forti per esempio nella nautica e quindi lui dice che comunque ci sono tantissime possibilità di cooperare nelle tecnologie nelle quali siamo molto molto forti aspettiamo il primo viaggio aereo prima viaggio aereo stai dentro di Napoli che siamo in di Fai G, Semenhanlander Fai G. Siamo arrivati a questo momento. L'azienda di ricerca e di ricerca è importante usare questo lavoro. Questo lavoro è molto bene. Siamo arrivati a questo punto. Abbiamo parlato con il Presidente di questi aspetti della cooperazione e questo è uno dei più importanti. Grazie. 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 Grazie.